Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò come cambiare il nome della pagina di Facebook. Nel video precedente abbiamo visto come fare creare una pagina di Facebook, invece in questo vi insegnerò come modificare il nome della pagina. Allora iniziamo subito, possiamo vedere che qua c'è scritto il nostro nome della pagina, cliccando ora su informazioni potremo vedere tutti i dati della pagina. Dove c'è scritto il nome della pagina ci sarà scritto anche insieme modifica, noi andremo a cliccare proprio su modifica. Ora andremo a modificare il nome, a posto di mettere negozio bolle di sapone metteremo solo negozio di bolle. Una volta modificato clicchiamo su conferma. E vedremo che ci saranno dei giorni in cui potranno revisionarlo. Clicchiamo su ok. Abbiamo fatto, infatti già hanno già revisionato e hanno accettato la nostra modifica. e la nostra pagina sarà già con quel nome che abbiamo scelto. Dobbiamo stare attenti solo a una cosa, che bisogna aspettare alcuni giorni che nel motore di ricerca di Facebook la vostra pagina sarà indirizzata solo con quel nome. Dunque aspettiamo un po' di giorni e il resto è fatto. Vi invito ad iscrivervi nel mio canale. Mi raccomando ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!